Il giostro del Palazzo Comunale, primo atto ufficiale del 2014 della giostra del Saraceno, con i premi ai giostratori, quelli che hanno corso le due edizioni, i titolari e le prove. Ci sono stati dei riconoscimenti anche alla carriera, tra cui Fagliero Papini, ex rettore di Porta Sant'Andrea, colui che ha portato alla rinascita il quartiere Bianco Verde. Al termine della cerimonia sono stati resi visibili i cartelloni, la giuria questa volta ha lavorato veramente bene, non c'è stato nessun problema. Il giostro del Palazzo Comunale, con i premi ai giostri di Porta Sant'Andrea, con i premi ai giostri di Porta Sant'Andrea, con i premi ai giostri di Porta Sant'Andrea. I cartelloni sono stati scoperti, non c'è nessun problema, la giuria ha lavorato veramente bene. Credo di sì, non ho visto grandi critiche, quindi credo che la giuria abbia fatto bene.